Un cordiale saluto e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di video 33. Subito la cronaca politica, colpo di scena a Merano, la SVP scarica il PD per la nuova formazione della giunta comunale. Vediamo. Non è esagerato parlare di notizia politica che è in qualche modo del clamoroso, in merito alla decisione della stella alpina della città del Passirio, che ha deciso di dare vita ad un esecutivo di cui, udite udite, non farà parte il PD, alleato storico della Volkspartei. Ma non è finita qui. Non solo nell'esecutivo cittadino non saranno presenti esponenti del Partito Democratico, ma al loro posto ci saranno liste civiche e perfino la Lega. Questo il verdetto del direttivo dell'SVP di Merano, che ha detto no alle richieste venute dal segretario del Partito Democratico, Antonio Frena. Cristallino ed esplicativo il commento dell'obman della SVP della città del Passirio, Anton Gögele. Con il loro atteggiamento, ha detto il segretario della Volkspartei meranese, il PD e i Verdi non ci hanno lasciato scelta. Di qui la decisione del direttivo meranese della SVP di dare vita ad una maggioranza assieme alle due liste civiche, quella di Giorgio Balzarini e quella di Carmelo Genovese, con l'appoggio esterno della Lega Nord. In questo modo, ha detto il sindaco di Merano, Günter Janot, la governabilità sarà garantita.